Dodicesima edizione dell'European Basketball Week 2016 si è svolta oggi nella scuola Salvatore Quasimodo di Gela circa 20 giustisti dell'associazione sportiva di Rattantisti Corizzonte di Natale Salucci che hanno avuto come loro partner attraiti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Si sono confrontati in partite dimostrative di sport unificato allo scopo di diffondere la cultura della diversità e la filosofia di Special Olympics. Una bella occasione per ritrovare uno sport che per me significa molto, mi ha cresciuto, mi ha dato dei valori importanti valori che in questi giorni e in questa occasione li trovo anche in questi ragazzi ragazzi che rappresentano uno sport importante di Gela e per questo motivo per me è un onore rappresentare l'ARMA e più in generale lo Stato italiano. Siamo onorati di far parte di questa manifestazione e per quanto riguarda i ragazzi ho visto che c'è un grande entusiasmo hanno una grande forza e spero che siano da esempio di vita per tutti. Per me è veramente un piacere partecipare con questi ragazzi diversamente abili in questo sport unificato che è la settimana del basket e siamo felici veramente di essere presenti e di dare il nostro contributo come forza armata. Alla manifestazione hanno partecipato due team scolastici, la scuola Salvatore Quasimodo e la Luigi Capuana. Vogliamo dare un input al territorio a sviluppare lo sport unificato per un percorso di integrazione e di inserimento proprio a 360 gradi. È una delle giornate classiche che noi da 13 anni facciamo, è un momento importante anche perché le forze dell'ordine e le forze di polizia hanno condiviso questo momento e grazie a loro possiamo fare un percorso di diffusione dei valori della solidarietà e dell'integrazione. Un momento di aggregazione, un momento di crescita che ci fa piacere che per la Sicilia GEL è stata scelta come tappa per il nostro territorio. Tutti dobbiamo farci carico dei ragazzi diversamente abili. Se non c'è un lavoro sinergico di tutte le componenti che sono la scuola, che sono gli enti, che sono anche le associazioni, e le associazioni anche sportive, difficilmente il processo di inclusione può avvenire pienamente. Non dobbiamo pensare che l'inclusione sia soltanto l'inclusione scolastica.